In generale è cambiato che ci conoscono le squadre di più, è passato un po' di tempo dall'inizio del campionato, come magari all'inizio era sorpresa la prima parte della partita, i primi minuti, adesso le squadre le conoscono più, quindi magari partono con mentalità diversa, anche loro. Perché durante la settimana ci prepariamo per la formazione che mette il mister a disposizione, c'è pure la disposizione mister che tutti i ragazzi, quelli che ci sono, danno tutto dove mette il mister. Quindi se a me mi cambia sinceramente la difesa, a me non mi cambia tanto perché sono ragazzi bravi tutti. Noi non parliamo di classifica, noi parliamo di fare bene ogni partita, di provare a vincere tutte. Poi classifica, siamo terzi da metà campionata, quasi dall'inizio, siamo primi, terzi, poi non è che cambia tanto per noi. Ci concentriamo di fare bene ogni partita, poi si può vincere e si può perdere pure. Sicuro siamo una sorpresa perché durante l'estate si è cambiato tanto e poi al fatto del Covid sappiamo tutti come era il campionato scorso. Poi sicuramente siamo una sorpresa a nostro valore, che siamo riusciti a fare grande cose e speriamo di riuscire ancora a fare altre buone partite. Io sono stato sempre qua contentissimo, mi trovo bene a Teramo, quindi se dovrei rimanere sicuramente sono contento. Mi trovo bene a Teramo, quindi sono passati poi pure quattro anni, sono più anni di tutti a Teramo. Michele, come te lo immagini in questa seconda parte di campionato? Perché diciamo c'era tutto, adesso togliendo la partita di Viterbo, però sostanzialmente ci avviamo verso la parte decisiva del campionato, la seconda. Che Teramo pensi che potremmo vedere, non quello che ti auspichi ovviamente, immagino che ti auspichi un Teramo vincente, ma quello che pensi possa essere la squadra in questa seconda parte? Ci siamo preparati bene dopo la pausa natalizia, durante questi dieci giorni prima dell'Avellino e si è visto anche contro l'Avellino che in certi aspetti abbiamo migliorato. Sicuramente siamo stati molto aggressivi e abbiamo mantenuto tanto tempo a sua metà campo. Quindi cerchiamo di fare questo, di fare stare le squadre a sua metà campo a basso. Grazie. Grazie.